Buoni o cattivi? Lo sapevate che la parola cattivo in realtà non significa malvagio. Cattivo deriva dal latino captivus e significa prigioniero. Allora oggi chi è il cattivo? È colui che la società demonizza perché non ha ceduto alle convenzioni? O è invece il finto buono che si crede libero ma in realtà è schiavo di queste convenzioni? Quindi il cattivo è il buono e il buono diventa il cattivo. Il primo artista che ha sollevato la questione è un artista di cui oggi voglio parlarvi. Trasversale ha unito tre generazioni, ha riempito gli stadi ed è un poeta del contemporaneo. E come tale io oggi voglio parlarvene. È uscita da meno di una settimana la sua serie su Netflix e già ha spopolato. E ovviamente io me la sono divorata perché io sono una fedele vascomane. Voglio parlarvi infatti di Vasco Rossi e delle sue canzoni. Nel guardare la serie di Netflix non ho potuto fare a meno di entusiasmarmi e al contempo commuovermi. Perché sentire Vasco e fare un percorso ritroso in quella che è stata la sua carriera dagli anni 70 a oggi, il super vissuto e non solo il sopravvissuto. Sopravvissuto ai tempi, sopravvissuto agli odio degli altri, alla guerra mediatica, al fatto che lui ha segnato un solco tra generazioni e si è scagliato contro i benpensanti. Beh, ripercorrere il suo percorso è stato come avere la mappa della mia vita. E questo non solo per me, sicuramente per gran parte degli italiani che come me erano ragazzi lo hanno seguito in tutta la sua ascesa ed erano con lui a piangere ai concerti, agli stadi che lui ha saputo riempire. Una mappa della vita perché parlare di Vasco è parlare di fenomeno non solo musicale ma culturale. quanto le sue canzoni hanno influenzato le nostre coscienze, sono entrate nella nostra cultura proprio a porte aperte. E ci sono delle matrici di Vasco Rossi che io ho voluto individuare e di cui vorrei parlarvene oggi. Diverse matrici nelle sue canzoni e diversi modi di vedere le cose e all'interno di queste categorie un'evoluzione. Sto parlando del modo di vedere le donne, del modo di vedere l'amore, del modo di interpretare la vita ma anche del modo di interpretare la sua particolarissima relazione con Dio. E proprio in questo parlo di fenomeno culturale. Ma l'idea non è mia perché già la grandissima intellettuale iscrittrice Fernanda Pivano ha paragonato Vasco a Charles Bukowski. E Vasco stesso ha fatto un post, è apparso sui giornali ricordando lo scrittore per quello che sarebbe stato il centenario. Bukowski è nato negli anni venti e per il suo centenario putativo Vasco lo ha ricordato. Vi farò vedere all'interno di questo percorso quanto alcune canzoni magari anche solo inconsciamente si siano ispirate a Charles Bukowski o comunque risultino in parallelo. Quanto loro sentire questo graffio dell'anima, questa voglia di protesta, questo squarcio nella società ben pensante che però è uno squarcio libero di una persona che non vuole schierarsi né da una parte né dall'altra e quindi una dichiarazione assoluta di anarchia, quella più pulita, sia così vicino al sentire di Bukowski. Per me è anche allo spleen di Baudelaire che io amo. Quindi un trio che è dai poeti maledetti ai cantanti maledetti. Il primo tema che ha reso uniche le canzoni di Vasco e che hanno espresso tutta una generazione e che l'hanno distinto dagli altri artisti con questo suo forte urlo è l'urlo della libertà e quindi il tema. È un tema che inizia a partire da vado al massimo e poi si sviluppa con liberi liberi, siamo solo noi, c'è chi dice no. E gli spari sopra, ma gli spari sopra inizia a incrociare una contestazione, non è solo la libertà ma una contestazione contro la guerra. Allora parliamo di libertà, che cos'è la libertà per Vasco e come questo tema incrocia in maniera incredibile le poesie di Charles Bukowski. E quando la mattina non ti sveglia nessuno, e quando la sera non ti aspetta nessuno, e quando puoi fare quello che vuoi, come la chiami? Libertà o solitudine? Liberi liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Dov'è la libertà? Chi ci dà il paletto di cosa sia la libertà ritorna il tema del buono o del cattivo, a partire dal fatto che il cattivo è colui che è stato catturato dalle convenzioni. Se noi diamo un'etichetta di cattivo alle persone che stanno fuori dalle convenzioni, confondendo, partendo dalla lingua, non ci siamo. Diamo, dipingiamo di nero coloro che sono le persone in realtà libere e dovrebbero essere i bianchi. E questo lo dice anche Bukowski, la poesia di prima era la poesia di Bukowski, ma in Bukowski la libertà ha anche a che fare con un tema molto particolare, che è il tema della solitudine, perché chi è veramente libero è anche solo, ecco perché siamo solo noi. Lasciate che vi dico una cosa, se incontrate dei solitari, qualunque cosa vi raccontino, non è perché amano la solitudine, è perché hanno cercato di amalgamarsi col mondo e la gente continua a deluderli. Ecco perché chi è un solitario? È un solitario colui che non si conforma, colui che ha deciso che si basta, colui che ha deciso che la sua diversità non è una diversità ma è una unicità. E quindi Bukowski si è fatto portavoce di un certo tipo di persone, non è coloro che amavano fare tardi la sera perché si sentivano degli animali notturni. Siamo solo noi, quelli che andiamo a letto la mattina presto, gli altri si alzano per andare a lavorare e noi contestiamo, perché vogliamo vivere, vogliamo viverla tutta nel bene o nel male. Ma questo comporta anche un essere soli, e l'essere soli spesso degenera nella noia. La noia di Vasco è una noia che ha a che fare con lo spleen di Baudelaire, una poesia che esprime lo spleen di questo poeta maledetto, il primo e il più grande. Quando come un coperchio cielo pesa grave e basso, sull'anima gemente in preda a lunghi affanni, e quando versa su noi dell'orizzonte tutto il giro, abbracciando una luce nera triste più delle notti, e quando si è mutata la terra in una cella umida, dove se ne va su per i muri la speranza, sbattendo la sua timida ala come un pipistrello che la testa picchia su fradici soffitti, e quando imita la pioggia nel mostrare le sue strisce infinite, le sbarre di una vasta prigione, e quando un popolo silente di infami ragni tende le sue reti in fondo ai cervelli nostri, ad un tratto furiosamente scattano campane, lanciando verso il cielo un urlo atroce. Questo è lo spleen di Baudelaire, è un urlo dell'anima, un graffio. È un po' come la canzone Gli Angeli, una specie di apocalisse, qualcosa che ti fa sentire solo, e quindi arriva a un certo punto la malinconia. Nella serie di Netflix emerge molto bene, in una fase difficile della sua vita, una fase che era in declino dal punto di vista psicologico, perché se n'era andato il chitarrista, suo amico di sempre, Riva, era morto di overdose, e un altro amico di compagno di avventure era stato accompagnato, era stato colpito dall'epatite, che poi colpiva gli ex tossicodipendenti. Però questa persona si era salvata dall'eroina, si era disintossicata, e poi alla fine l'ha aspettato al varco, alla morte. A un certo punto Vasco si è sentito solo, si è sentito come se fosse stato abbandonato dagli amici, non per loro volontà, e le cose non avevano più un senso, perché i parametri erano cambiati. Si è dovuto grappare alla famiglia. Generazionale perché? Perché c'è chi pensa che, certo, se ti droghi te la vai a cercare, lo sai, ma non è sempre così semplice distinguere il nero dal bianco. Dovevamo essere in quegli anni per vedere anche il disagio che c'era, e molta gente scambiava, purtroppo sbagliando, l'eroina per una finta libertà. Allora abbiamo parlato di spleen. Lo spleen è un tema fondamentale in Baudelaire, ed è la malinconia, la noia, la solitudine. La consapevolezza che l'artista ha un animo tale per cui è destinato a volare in alto, ma a volare da solo, nonostante gli altri vogliono spezzargli le ali, come nella poesia dell'Albatros. E nella canzone di Vasco Rossi, La noia, si capisce bene questa sensazione, si ha lo stesso gusto, questa stessa malinconia della noia, proprio perché Vasco in quel momento era solo. Ma c'è un altro parallelismo che volevo fare, è il rapporto, è un altro tema affrontato dalle canzoni di Vasco Rossi, ed è il suo rapporto con Dio. È il rapporto non tanto con la religione, ma con la spiritualità. In particolare nelle canzoni, portatemi Dio, un senso e gli angeli. È il senso della vita, è cercare qualcosa al di là di noi, al di là del dolore che ci blocca ogni giorno, anche quando il senso non c'è, perché sembra che niente abbia senso. E un misto, in questo senso, a mio avviso io ritrovo proprio un misto di Baudelaire e di Bukowski, perché Bukowski ha un rapporto con Dio anche più ironico. Mentre nella canzone, Portatemi Dio, Vasco fa un processo al principio cosmico, perché non trova un senso, in Charles Bukowski, la poesia dedicata a Dio, quando Dio creò l'amore, c'è non proprio un intento di processo, c'è una critica generale che però finisce nell'ironia, nell'ironia perché Dio ha sbagliato tanto, ha fatto tanto errori, però ha fatto te che ti amo, sei la mia donna, ti vedo distesa nel letto e so che ha fatto la cosa giusta. Ecco, questa ironia c'è anche nelle canzoni, c'è tantissimo nelle canzoni di Vasco Rossi, però non in quelle dedicate, non in quelle che hanno un afflato, diciamo, mistico o comunque un intento anche di discussione esistenziale. Quando Dio creò l'amore, di Charles Bukowski, quando Dio creò l'amore, non ci ha aiutato molto, quando Dio creò i cani, non ha aiutato molto i cani, quando Dio creò le piante, fu una cosa nella norma, quando Dio creò l'odio, ci ha dato una normale cosa utile, quando Dio creò me, creò me, quando Dio creò la scimmia, stava dormendo, quando creò la giraffa, ero ubriaco, quando creò i narcotici, era su di giri, e quando creò il suicidio, era a terra, quando creò te distesa a letto, sapeva cosa stava facendo. Molto bella questa poesia di Bukowski, che ci porta dritto al punto, al Vasco che parla di amore. 50 sfumature di Vasco quando parla di amore, perché non c'è solo un gusto, un'emozione che ci viene trasmessa, ma mille emozioni, dall'amore ingenuo, disincantato, a quello disperato, a quello contemplativo, addirittura un amore che ha quasi del mistico. E allora partiamo da quelle più semplici, come una canzone per te, una canzone bellissima, ma pura, la canzone di un innamorato, che paragona l'amore ai fiori, ma lo fa non cadendo nella banalità, ma con una poesia, perché l'amore è come una canzone, sboccia nell'animo come un fiore. Tante volte le cose più belle sono proprio quelle più semplici. E poi abbiamo l'allegria, l'allegria del Vasco che vuole mettere famiglia, che sogna io e te, come nelle favole, avremo dei bambini, magari litigheremo anche coi vicini. Per arrivare a un Vasco Rossi, romantico, ma romantico, struggente, ovviamente siamo al contemplativo, tu fi, con una sola parola si ha un'intera canzone, per questa parola cambia mille volte intonazione, va da romantico al passionale, al disperato, all'evocativo, c'è dentro un mondo in tu fi. C'è Gabri, perché Gabri è la ragazzina, la ragazzina a cui lui non sa dire di no. che però lo precipita in un mondo rimpianto. Ma soprattutto ci sono due canzoni che sono veramente due pietre miliari, non solo della canzone italiana a questo punto, anche della nostra letteratura. Perché con la frase non rifacciamo un letto mai disfatto, riusciamo a capire quanto Vasco Rossi riesca a entrare metaforicamente nella vita, nella vita di tutti i giorni. Le minestre riscaldate diventano il letto che non è il caso di rifare. La nostra relazione è una canzone che è graffiante, estruggente, che narra veramente la disperazione della fine di un amore e quanto sia difficile lasciare andare. perché ci si affeziona quello che è stato l'amore, quello che era stato il prima e non si riesce a guardare un domani e si continua a rifare mille volte lo stesso letto. Penso che sia una delle canzoni più belle, più riuscite di lui per quanto riguarda l'amore insieme a Vivere una favola. Perché in Vivere una favola invece abbiamo la poesia dal punto di vista proprio quasi utopico. Come c'erano i pensatori, come c'erano i letterati, i filosofi che immaginavano l'utopia dal punto di vista del vivere civile, un paese che non esiste, dove tutti vivono in armonia, per lui vivere una favola è la storia d'amore compiuta e realizzata. Stare su un'isola, quando ci si innamora si è così, si sogna, si vive in un mondo che è magico ed è un mondo parallelo ma non per questo non esiste perché è il mondo degli innamorati. E parlare di canzoni di amore significa anche parlare di donne, il rapporto che Vasco ha con le donne che è straordinariamente meraviglioso perché lui vive soprattutto con la mamma e con la nonna perché il papà era sempre spesso in viaggio, faceva il camionista e come anche nella serie Netflix dice si è spaccato la schiena di fatica per riuscire a sistemarci e nonostante ciò lui riesce appunto proprio forse anche per questo riesce a studiare, a portare avanti i suoi sogni, a essere incisivo nel nostro mondo che è anche il mondo della cultura, soprattutto il mondo della cultura ma in maniera nuova, innovativa, incisiva, senza fronzoli, con una poesia, canzoni che ti incidono proprio l'anima. E le donne di Vasco sono donne che potremmo potremmo farne un libro, potremmo farne un caleidoscopio umano perché partiamo dalle, forse anche un po' quasi bipolare, si capisce quanto gli piacciono le brave ragazze acqua e sapone che magari nascondono un lato vagamente trasgressivo ma poi riesca anche a precipitare nell'abisto della fan fatale tentatrice a cui lui non sa resistere. Ed è una lotta un po' come il bianco, anzi il rosso e il nero, come l'amore sacro e l'amor profano. Dunque abbiamo le donne di Alba Chiara, Alba Chiara che era la ragazzina che viveva di fronte a casa sua, lui vedeva che andava a scuola, le piaceva studiare, aveva in mano questa mela, però la ammirava, non la prendeva in giro, non era la secchiona che gli altri prendevano in giro. In questo lui si distingue perché ha sempre il suo pensiero che è fuori dal coro. E dall'Alba Chiara c'è un'evoluzione in quella che era stata quando ero ragazzina la mia preferita perché porta il mio nome. È Silvia. Silvia sta davanti allo specchio perché in fondo si piace e non si piace. È un adolescente che cerca di mascherare col trucco le sue insicurezze. Il trucco è un po' come una maschera dove nascondersi per prendere sicurezza, anche perché siamo nella fase dell'adolescenza e il seno deve ancora crescere. E a questo punto arriviamo poi alle fan fatale delle sue canzoni. La prima fan fatale è la protagonista della canzone Brava. Ti sei voluta divertire con il tuo gioco di calze nere. Ed è un po' anche l'ispirazione che poi evolve nel fenomeno degli anni 90 di Non è la Rai quando lui decide di dedicare alle ragazzine di Boncompagni la canzone Delusa. Sono le ninfette diciamo che lui non critica dal punto di vista morale anzi è una canzone che segna proprio uno stacco con quelle che erano le critiche sui giornali nella suo solco ironico perché perché è così mentre gli altri le criticavano come superficiali lui cerca di prendere una posizione diversa ma avverte appunto le ragazzine che attenzione state facendo anche un po' un gioco pericoloso perché non è una questione tanto morale quanto è che state giocando un gioco più forte di voi ecco perché Delusa perché prima o poi quando crescete e finisce il gioco della ninfetta che seduce il pubblico più adulto poi la vita vi potrebbe presentare il conto e questo mi fa riflettere perché proprio qualche anno fa è scoppiato una specie di me too all'italiana e tante ragazze di Non è la Rai hanno poi denunciato quelle che erano state i loro i sopprusi che hanno dovuto subire per arrivare poi al capolavoro di una vita allora Jenny è pazza che evolve nella poesia di sempre che infatti è poi diventato il capolavoro di Fiorella Mannoia da Jenny è pazza perché ha una sensibilità diversa dagli altri quindi probabilmente anche tossicodipendente arriviamo a Sally una donna che è forte una donna che vuole distinguersi dalle altre che dice basta si lascia tutto alle spalle perché lei ha già visto che cosa può accadere è già stata punita è già stata giudicata stanca delle etichette stanca delle convenzioni stanca di un mondo che ti deve sempre mettere la scatolina di essere schiava magari dei genitori schiava di quello che pensano gli altri schiava di quello che dice il fidanzato schiava del divorzio schiava del figlio Jenny Sally si lascia tutto alle spalle si fa la sua passeggiata guarda il cielo guarda la luna e c'è quasi un afflato direi quasi leopardiano cioè questa fusione con la natura che le dà una libertà incredibile se lì sono io se lì siamo noi e come non dimenticare a questo punto la canzone di Patti Bravo che poi vince Sanremo ma il nostro dialogo la nostra carrellata deve finire qua io vi invito a ascoltare cantare col cuore le canzoni di Vasco e a leggerle a leggerli i testi e a capire quello che lui ci dice i suoi mille significati perché come dice appunto Fernanda Pivano è un grande non è solo un grande cantante è un poeta Vasco Rossi e Bukowski si trasgrediscono per denuncia come diceva Lilian Hellman o forse per disperazione o per bisogno di affermare a qualunque costo la propria indipendenza un uomo indipendente è un uomo libero liberi 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 buoni o cattivi